Ecco qui Francesca Varga, è andato tutto bene, si sono svolte le elezioni per cui anche questo traguardo è raggiunto, non sarà un traguardo ma sarà un punto di partenza perché comunque noi puntiamo su delle deleghe per la promozione del territorio perché insieme a Loretta Bologna, Assessore del Comune di Asti, avevo già seguito un po' affiancata a lei questo tipo di progetto per cui questo nuovo incarico servirà proprio a quello.